Quanti anni hai? Hai 95 anni? Sì, 95. Quindi hai vissuto durante la seconda guerra mondiale? Sì, sono sopravvissuta. Avresti mai immaginato la guerra fra Russia e Ucraina? Che questo gli si ritorca contro, dice. Che questo gli si ritorca contro e che non possano trovare pace per questo. Le persone sono le stesse ovunque. Voi e noi siamo uguali perché facciamo parte della stessa specie. E loro spingono e spingono. E lui ha mostrato di cosa è fatto. Il figlio di... Tutti quanti lo maledicono. E tutto quello che mostrano in televisione sono menzogne. Tutti quanti mentono. Noi nonna non guardiamo la televisione. Da tanto tempo. Ma lui, Putin, continua a fare lo sbruffone e vantarsi che aveva navi e aeroplani. E cosa hanno fatto? Io ho figli e nipoti. Cosa avete fatto? È difficile per me camminare adesso. Ho quasi 100 anni e ho vissuto nel villaggio per tutta la mia vita. Abbiamo lavorato per niente. Nessuna paga. Niente. Che vita abbiamo vissuto, figli miei. E questa era una nonnina di 95 anni nella regione di Kursk, intervistata da dei soldati. Non commento quello che ha detto perché, come è giusto che sia, ognuno è libero di fare le proprie considerazioni. E questa è la prima nonnina di oggi. Adesso ne arriva un'altra ed è giusto un assaggio del video che tratteremo perché, appunto, prenderemo alcuni filmati che sono arrivati in queste ore, pubblicati su Telegram e dalla televisione russa e ucraina. Nella parte finale del video poi ci saranno gli aggiornamenti dal teatro operativo. Ma continuiamo a far parlare le donne russe perché penso che sia giusto. Questo stralcio di conversazione, non chiedetemi chi sono, non lo so, ma non so da dove è stata presa questa telefonata, è una videochiamata, penso fra parenti, sono tutte e due cittadini russi. Sentiamo cosa dicono, mettetevi comodi perché questa donna è anche parecchio sboccata, quindi non dite che non vi avevo avvisato. Lo sai che YouTube non sta funzionando? Io lo so perché, dice lui. Sei a Kursk? Sì, sono a Kursk. Lo sai che YouTube ha smesso di funzionare per me in UFA? Perché? Hai saputo che le forze ucraine si sono stabilite nella nostra Kursk? Certo che lo so e sapevo anche che sarebbe successo dal primo giorno della guerra. Avevo detto che l'Ucraina vincerà. Per quale motivo siamo andati lì? Ma nessuno mi ha creduto. Un ufficiale di polizia si è messo a litigare con me e gli ho detto che l'Ucraina vincerà. E lo mi ha detto, perché? Abbiamo così tante armi. Gli ho risposto, gli ucraini ci ringrazieranno per i rottami metallici gratuiti, ci prenderanno a calci nel sedere e finiremo con il pagare i danni e la ricostruzione. Capisci? Gli ho spiegato il ruolo dell'Ucraina nell'Unione Sovietica. Era una nazione avanzata culturalmente. Dagli studi sul cosmo. Tchaikovsky era ucraino. Korolev era ucraino. Tutti i scienziati erano ucraini. Tutte le persone più rilevanti erano ucraine. E gli ho detto, voi strozifelini non avete imparato neanche come si tirano fuori le unghie fino ad oggi. Perché cercate di avere rapporti con i cetrioli piuttosto che usare l'attributo? Ha detto. Vi ho detto chiaramente, voi uomini russi avete bisogno di imparare come fare all'amore con le vostre donne prima di tutto. Le donne russe sono le più incazzate del mondo perché non hanno provato l'esperienza di un orgasmo una sola volta nella vita. Con quei cetrioli della grandezza di un ombellico, ho detto. Perché siete intervenuti in tutto il mondo? Lo sai cosa mi ha risposto il poliziotto? Sei tu che ce l'hai grande. Il nostro non è piccolo, è la tua che è grande. A questo punto il ragazzo è visibilmente imbarazzato e dice va bene, dai tagliamo corto, è il momento di salutarci. No, aspetta, dice lei, lasciami dire qualcos'altro. Si è scoperto che la colpa è mia se le cose per noi vanno male in Ucraina. Lo sai perché? Hanno detto, tu sei una fattucchiera, sei una strega e hai portato sfortuna. Quindi è colpa mia se l'Ucraina sta vincendo. E con questo ti saluto. Grazie a te per questo, dice lui. Ok, insomma, è chiaro che vi passo il link di questa telefonata perché se conoscete un pochino l'inglese riuscite a leggerlo, sentire la sua voce è uno spasso, insomma. Ma andiamo avanti. La televisione russa ci sorprende sempre. Oddio, scusate. Partito il video, scusatemi. Allora, la televisione russa ci sorprende sempre. Infatti fanno le affermazioni più assurde e non si rendono conto di come possono essere ridicolizzati per questo in occidente. Testuali parole. Il blogger militare russo Kirill Fedorov, sull'idea di bloccare Telegram in Russia, dice, letteralmente ieri stavamo guidando gli Skander tramite Telegram. La nostra artiglieria è guidata tramite Telegram. L'aviazione, questa è la realtà. Stiamo combattendo su internet. Abbiamo trasmissioni di droni tramite Discord. Abbiamo una guida tramite Telegram. Il lavoro con le nostre fonti di informazione viene svolto tramite Telegram, che a qualcuno piaccia o meno. Ora, a questo post di Samuel Bandit, che appunto qualcuno riporta come viene detto proprio dalla televisione russa, nei commenti è uno spasso perché è vero che stanno usando Telegram. E infatti questa conversazione è stata proprio carpita, catturata via Telegram, che bisogna sempre ricordare che è un software aperto, senza scopo di lucro, quindi non è il massimo come crittografia militare, insomma. In questo scambio di battute c'erano dei soldati che chiedevano proprio supporto aereo disperatamente nella regione di Kursk. Fra l'altro un certo Intel Warlux, che significa tricheco delle informazioni, scusate il nickname mi ha fatto morire da ridere, giustamente dice chiamare supporto aereo via Telegram perché non hai una catena di comando funzionante è una nuova ed emozionante dottrina militare russa. Mentre un tale Ali dice, sai, sai come riconoscere una persona in difficoltà se chiede aiuto sui social? Scusate ma è tremenda questa. Sì beh, le forze armate chiedono il supporto aereo, mi sto immaginando i piloti di Su-24 scrollare in basso le notizie per mettere i like alla richiesta di supporto, ma un attimo dopo sono distratti da un guro delle criptovalute. Offerta da non perdere. Quindi no, dai. Ma comunque in questi giorni la televisione russa è veramente scatenata, sta dando il meglio di se stessa, con dei picchi di trash mai visti prima d'ora, voglio dire, sono passati dai due giorni per conquistare Kiev a adesso tutto il mondo ce l'ha con loro, la Russia è la vittima perché nessuno reagisce all'invasione dell'Ucraina. Insomma, se fino ad oggi l'Europa e l'America erano il nemico, oggi che nessuno li considera perché l'Ucraina li ha invasi, sono diventati tipo il male in assoluto. Tra l'altro in questo video Putin dice che il numero di contratti di reclutamento si è raddoppiato, è ovviamente un video di grande propaganda con musiche sinfoniche eccetera eccetera. C'è solo il piccolo problema che reclutare gente adesso e fare una campagna mediatica con tanto di musica solenne non risolve niente. Se vi ricordate nel video di ieri abbiamo accennato ai soldati della 488esima brigata, proprio ne abbiamo parlato ieri, che sono stati mossi in due giorni, cioè sono stati prelevati dall'area di Chasifiar e dal Donbass l'undici e portati nella regione di Belgoro Dedikursk il tredici. Sono già finiti davanti alle telecamere oggi, prigionieri dei soldati ucraini. Fra l'altro un gruppo di giovanissimi, cioè a vederli non avranno più di 18 anni, 20 anni, uno del 2022 tipo, ha detto di aver sentito la radio ucraina con l'annuncio che diceva di consegnarsi e il commento fra l'altro dice hanno fatto la decisione giusta e stanno bene a guardare almeno queste immagini. Mentre in quest'altro video annuncio diretto al presidente Putin, sempre uomini della 488esima chiedono di venire scambiati per soldati ucraini della brigata Azov. Quindi è ovvio adesso che la Russia sta cercando di reclutare gente e di questo ne abbiamo già parlato. Insomma, l'Ucraina ha invaso la regione di Kursk toccando il vero nervo scoperto della Russia dopo due anni e mezzo di conflitto che è costato mezzo milione di soldati russi. Comunque, per concludere il discorso, la parentesi televisione, passiamo dall'altra parte. Dal Kiev Post abbiamo un filmato di una reporter della televisione ucraina proprio dalla città di Suja, la prima giornalista ucraina che trasmette dal territorio russo, che dice siamo a Suja in questo momento storico, mentre il tricolore russo cade a terra. All'ingresso di Suja abbiamo visto una colonna russa distrutta che si sta muovendo verso il confine ucraino ma non l'ha mai raggiunto. Di questa colonna ne abbiamo parlato già dal primo giorno perché è famosa, è diventata famosa quella dove si vedono i carri armati ancora sui rimorchi che sono stati distrutti, senza che non sono riusciti neanche a scendere dai rimorchi. La reporter poi continua dicendo che la città non è molto danneggiata, è poco danneggiata. I danni che ci sono sono dovuti alle bombe russe perlopiù, ma le forze ucraine hanno trovato persone che vivono nelle case e che non si sono rifugiate nelle cantine e si stanno adesso occupando di loro. Oggi siamo entrati, dice, in città insieme a un veicolo di supporto che si è preso cura delle persone intrappolate nelle cantine. Queste persone hanno detto che nessuno li aveva avvisati di evacuare e nessuno è venuto a prenderle. Molte di queste persone sono rimaste nelle cantine per una settimana avendo paura degli attacchi aerei. E adesso sono senza cibo, ma la situazione è migliorata perché con l'ingresso di questi aiuti è arrivato anche cibo e acqua da parte dei soldati ucraini. Andiamo avanti. Le notizie purtroppo non sono sempre buone per gli ucraini. Ieri da parte del canale di Konstantin, uno dei reporter più accreditati di questo conflitto, è stato trasmesso un video che mostra 8 BTR4, sono dei mezzi blindati per il trasporto truppe, 8 BTR4 ucraini venire colpiti e distrutti dalle azioni droniche e dall'artiglieria russa. L'articolo dice, cito testuali parole, questo evento ha portato alcuni osservatori al panico, sostenendo che l'Ucraina è finita e sta perdendo la strada. Questa prospettiva è fuorviante. La perdita è davvero tragica ed è straziante sapere che delle vite sono andate perse in quell'assalto. Le nostre forze meccanizzate hanno subito perdite umane e di attrezzature. Date le risorse più limitate dell'Ucraina rispetto alla Russia, vorrei che ciò non fosse accaduto. Tuttavia è importante ricordare che l'Ucraina sta combattendo un avversario dieci volte più grande, più ricco e meglio equipaggiato. Non è realistico aspettarsi che l'Ucraina effettui sempre operazioni impeccabili. Ad esempio, mentre l'attenzione è concentrata su Kursk, ieri i russi hanno lanciato un assalto all'Ibsti, con sei carri armati e circa 30 fanti a bordo. La maggior parte di essi è stata distrutta. Ma poche persone sembrano farci caso. Non sottovalutare l'immensa abilità delle nostre truppe nel respingere gli invasori russi. È una lotta dura e l'Ucraina sta ottenendo grandi risultati. E infatti in altre parti del fronte le battaglie continuano esattamente come prima. Adesso non è che la situazione è cambiata. È come, insomma, se continua. Mezzi e colonne russe continuano a cercare di avanzare, ma il copione che vediamo è sempre lo stesso. C'è un'enorme sinergia da parte delle forze ukraine che rinnovano continuamente i campi minati, che martellano incessantemente queste avanzate russe con artiglieria e attacchi dronici. In queste immagini che non vi posso mostrare c'è l'ennesimo episodio e nelle stesse modalità 13 mezzi blindati russi e un caro armato T-80 distrutti. Da parte Ucraina fra ieri e oggi si segnalano altri attacchi ad almeno due aeroporti militari russi. Due sono stati confermati perché abbiamo le immagini. E questo, come dire, è straordinario. Perché? Perché ci sono immagini che arrivano da terra e via satellite, che mostrano un drone sorvolare l'area di Savaleska, che io non avevo idea di dove fosse. Me la sono dovuta andare a cercare perché ha oltre 800 km dal confine ucraino, cioè è molto oltre Mosca, per intenderci. Questa pista è molto importante perché era il trampolino di lancio per i MiG-31. Questi vecchi aerei sono buoni solo a correre, sono dei corridori, per dire. Cioè hanno bisogno di una base molto lontana dal teatro delle operazioni, perché hanno bisogno di lunghi tragitti e tempi per accelerare e portarsi in quota, superare Mach 2, quelle velocità necessarie per lanciare i missili Kinjal. Il MiG-31 non è un aereo che può manovrare, in sostanza. Va sostanzialmente dritto. È nato come un intercettore, ma adesso non viene più usato per quel ruolo. Perché è ormai completamente fuori posto in una guerra moderna, ma ha visto una nuova vita operativa come piattaforma di lancio proprio per i missili Kinjal. Quindi questo attacco è straordinario da parte delle forze ucraine. Insomma è stato veramente un ottimo colpo. Si vede chiaramente il drone sorvolare l'aria, viene venire preso di mira dai fucili da terra e poi schiantarsi sull'Apron, dove ci sono parcheggiati gli aerei. Quindi aspettiamo le immagini di conferma, ma insomma per adesso sappiamo che l'attacco c'è stato tutto. Un altro attacco dronico è stato effettuato invece presso l'aeroporto di Borosilbisk, pronuncia pessima da parte mia, lo so, dove Musk 24 e Tombike, anche attraverso il canale di Mayakovsk, dice che sono stati colpiti hangar e altre infrastrutture dell'aeroporto e si vedono i risultati degli attacchi in questi due confronti satellitari. Anche questo aeroporto è veramente tanto lontano dal fronte, entrambe a queste basi sono più lontane da Mosca, di Mosca per intenderci. E ci dà un'idea delle capacità di questi droni ucraini che sono, diciamo, comprati dalla Turchia. La Turchia ha allestito una base per il montaggio di questi droni in Ucraina. Sono praticamente dei piccoli aeroplani, ve li mostro, spero anche qui la pronuncia, i Baikar, Bayrakatar, TB2. Sono dei piccoli aeroplanini radio guidati che volano a una velocità massima di 220 km orari, praticamente 130 km orari di crociera, fate conto, viaggiano come un'auto in autostrada a quella velocità, ma hanno un'autonomia di 27 ore, quindi se l'operazione lo permette si hanno antenne abbastanza potenti, oltre al fatto che comunque il drone ha un sistema di guida a navigazione satellitare, per darvi un'idea delle sue capacità, con questa velocità e queste ore di autonomia potrebbe tranquillamente partire da Roma e atterrare a Mosca, che sono giusto 3048 km. Mentre, per quanto riguarda invece gli aggiornamenti dalla regione di Kursk, gli ucraini continuano ad avanzare. Ieri avevamo parlato di circa 1000 km conquistati come un'esagerazione, ma a guardare la mappa aggiornata oggi non sembra così inverosimile. A nord le forze ucraine trovano più slancio e la loro avanzata si espande in larghezza e profondità nelle tre direzioni che abbiamo accennato nel video precedente. Mentre a est, sempre le forze ucraine, sono riuscite a farsi strada attraverso delle aperture nelle fortificazioni russe, quindi la situazione è letteralmente in evoluzione. Vi passo il link di questo PDF se volete darci un'occhiata, è una pubblicazione molto interessante che è venuta fuori dal The Institute of War che ci dà proprio anche la mappa aggiornata al 13 agosto. Gli scontri più violenti fra le due parti adesso si trovano a nord-ovest dei tre fronti aperti nella regione di Kursk in queste ore, presso proprio la periferia di Corenovo, con le truppe letteralmente in contatto e l'uso di mortai da parte ucraina. Quindi ancora oggi è abbastanza chiaro che gli ucraini nella regione di Kursk mantengono l'iniziativa e la Russia sta spostando velocemente i reparti dalle altre parti, prendendole da sud, dalla regione del Donbass e fra l'altro sta prelevando anche i reparti di confine con la Polonia e la Lituania nella regione di Kalingrad dove c'è l'importa più importante base navale russa. Dando un'occhiata alla mappa poi si evince che i russi stanno fortificando le posizioni lungo l'autostrada, in posizione molto più arretrata e a nord rispetto alla posizione ucraina. Per quello che sembra un tentativo di arginare l'avanzata ucraina molto più in là, significa che prevedono di perdere terreno nelle prossime ore. Le anticipazioni che avevo accennato riguardo l'esigenza di rinforzare il sistema di difesa aereo ucraino nei pressi della regione di Kursk pare abbiano avuto conferma definitiva. Infatti oggi si parla di un su 34 distrutto, credo che sia quello di un giorno fa, ma ha trovato la conferma della sua distruzione ed è il primo su 34 distrutto nelle operazioni della regione. Fra l'altro si segnala anche la presenza di un su 27 ucraino che sta partecipando alle azioni nella regione, sganciando J-DAM, bombe a guida inersiale sulle posizioni russe. Fonte, il Forbes, ovviamente oltre a questo il su 27 ucraino sappiamo che può occupaggiarsi anche con i missili anti-SEM, gli AGM-88 di produzione americana. questi missili sono specializzati per guidarsi, vanno in automatico verso le fonti radar, quindi se c'è una postazione missilistica a terra attiva, che ha un'antenna che emette onde radar, questi missili si agganciano su queste missioni e la vanno a distruggere. Insomma, va da sé poi, altra considerazione personale è che un su 27 ucraino per volare sulla Russia nella regione di Kursk ha bisogno di uno scudo missilistico a protezione, quindi tutto questo lascia intendere che gli ucraini non solo hanno fortificato Suja e hanno intenzione di tenerla, ma probabilmente hanno spostato anche un SEM a lungo raggio, un sistema missilistico antiaereo a lungo raggio, se non proprio nella regione, molto più vicino al confine rispetto a prima. Questo è quello che farei io, almeno. È chiaro che se non puoi difenderti dall'aviazione russa non ha senso avere delle truppe al suolo, lo scudo missilistico è fondamentale nella guerra aerea e nella guerra di terra anche, non ci piove. E quindi questo è quanto, non mi dilungo oltre sulla situazione perché è davvero mutevole e domani potrebbero esserci altre notizie, ma vi lascio con questo gruppo di soldati ucraini che hanno appena catturato un centro di comando russo e stanno facendo i buffoni con i taccuini, le cartelle e i telefoni che hanno trovato sul tavolo. C'è giusto uno alla fine che grida al telefono Gerasimov, Gerasimov, Shogu, abbiamo bisogno di due carri armati subito. E questo è quanto. Come sempre il vostro supporto è fondamentale, non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Qui sotto trovate tutte le funzioni di youtube per sostenermi in questo progetto. E niente signori e signore, come sempre un abbraccio e buon feragosto a tutti.